No, ho trovato una cosa fighissima dietro a casa nostra, ora ci vado E aspetta, che cosa intendi? E' una caverna con tutte le lanterne Ok, sto entrando Oh mio Dio, è un po' buio qua dentro Matti, Matti, ma dove sono? Ma che cos'è questo? Ma, ma, ma dove sono? Matti, ehi Matti, dove sono finita? E che cos'è questo posto? Oh, sta diventando anche buio Io ho paura del buio, se sono i posti che non conosco Che cosa devo fare io qua dentro? Che cosa c'è qua sotto? Posso entrare qua? Non posso, qua c'è pure la lava Sapevo che dovevo farmi fatti miei e non cacciarmi questo guaio Ora sono lontana da casa, non so dove sono Ci sono arrivata tramite un portale e Matti non sa neanche dove sono finita Oh, ma che cosa dovrei fare? Oh mio Dio, io spero tanto che Matti veniva qua Non è giusto però che io rimango solo in tutta questa città Ho troppa paura Ninna, ma che fine hai fatto? Io adesso entrerò in casa nostra E tu sarai nella tua camera A dormire oppure a mangiare qualche cornetto canutella Vero Ninna? Ok, la porta è aperta Quindi sicuramente si è entrata e... Oh no, oh no, oh no, è tutto vuoto qui Niente da fare ragazzi, se avete visto anche l'episodio precedente Di sicuro avrete notato che c'è un portale Un portale che collega non solo casa nostra a Minecraft Ma un altro portale dentro Minecraft Come quello di casa nostra Che a quanto pare ha fatto andare via Ninna E non so dov'è Ah, io sono sicuro che Ninna in questo momento Mi sta solo facendo uno scherzo E se proseguo per la città Lei sicuramente sarà in mezzo a queste costruzioni Vediamo un po' Oh, lo sappiamo tutti che tanto non c'è Ehi tu, ciao coniglietto Per caso sai dove si trova Ninna? Dai, per favore, non te ne andare via anche tu Sono l'unico rimasto in questa città Credo proprio che è arrivato il momento di entrare in quello strano portale Ninna, io mi chiedo Ma per quale motivo ci devi cacciare sempre nei guai? Praticamente quella è casa di Ninna e Matti, ok? E se io vado qui Vado sott'acqua Scendo giù, scendo giù Nuoto, nuoto Perché sono velocissimo e non sono affatto spaventato E non sto parlando in questo modo perché ho paura, no? Assolutamente Arrivo esattamente in questo punto Che è una caverna Una caverna illuminata Ovviamente cosa ha fatto Ninna? Ninna era felice Entrata in questa caverna come se niente fosse Io mi sarei messa a piangere al posto di entrare nella caverna Capite come abbiamo fatto io e Ninna, no? Proseguiamo in avanti Proseguiamo in avanti Proseguiamo in avanti E vi faccio vedere adesso dove ci troviamo Guardate che tunnel lunghissimo Ho paura già da qui Si incomincia a intravedere la stanza Ed eccolo Il portale Ormai mi sembra quasi sicuro Che Ninna sia entrata dentro questo portale Perché nella città non c'è L'ho cercato avunque E quindi Che dire? Io Vabbè la lascerò là dentro Ciao No Non posso Devo andare a salvarla Mi raccomando Lasciate un bel mi piace per aiutarvi Perché Matti il piagnucolone Oggi si darà da fare 3 2 1 Arrivo Ok Eccomi qua Quindi Ninna si è teletrasportata Con il portale In questa zona Wow Quanti minerali Beh dai Non è finita in un posto brutto In fondo Non ci posso credere Ma qui c'è del diamante Quasi quasi Me lo prendo Oh no Forse no Non ho il piccone Ah è vero Devo cercare Ninna Ehi Ninna Mi senti Mi senti Ninna Dove ti sei cacciata Non mi dire Che ti sei messa A inseguire dei gattini Che hai trovato in giro Per la mappa Perché mi arrabbio Ehi Ninna Ninna Oh Che Cos'è quel posto Salve Oh mamma mia Dove cavolo sono finito Sembrava un mondo Così normale Questo Ma dove sono finito Che cos'è quella torre altissima Ehi qua c'è un cartello Rimani Fermo Che vuol dire rimani fermo Devo fidarmi oppure no Proviamoci Eccomi qui Salve mondo colorato Come va Wow Aia Aia Cosa che mi colpisce La lava giusto No 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 Cos'è questo lago di lava Aspetta ma quella è una torre Altissima Aspettate un attimo Fatemi provare a fare una cosa 3 2 1 Ninna Oh non ci credo Ninna Ti vedo Oh come hai fatto a finire lì Porcaccia Una miseria Io che ne so Mi hanno rapita Non mi ricordo più niente Vieni a salvarmi Non posso scendere Come ti hanno rapita No no Ma come faccio ad arrivare lì sopra Ninna Eh mi sa che devi fare tutto quel percorso lì Ci cacciamo sempre Ok 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 sto arrivando Tu Tu intanto prova a fare qualcosa Muoviti Ok mi muovo Il problema è che qui ci sono dei pilastri E credo di dover fare del parkour Ninna Muoviti Matti Io non posso rimanere su questa torre altissima per l'altro tempo Ok ok Allora tanto io sono bravo a fare parkour Sono bravissimo Oh no Mi sa Mi sa che non ce l'ho fatta Aspetta aspetta Dai Matti per favore muoviti Ho così paura qua sopra io Ci sono i ragni C'è c'è Diciamo che non Non ci sono riuscito Matti ma ci sono i ragni Oggi Ninna non ti meriti neanche un cornetto carutella Fatelo dire Come no Dopo che mi salverai andrò a mangiarli Perché sono rimasta qua per piante Ok Sono vivo Potrei morire Sto morendo Sto morendo Sono morto di nuovo Poi questa cosa del portale me la spieghi eh E beh stavamo esplorando tutta la città E ho detto perché non esplorare anche il portale Ma perché ci sei entrato senza neanche avvisarmi Ma io ti ho avvisata Sei tu che non mi sentivi più Ho capito Non riesco a salire Ok sto salendo Sto salendo vado Ok sono vivo Sono vivo E dai Matti corri per favore Io ho fame di corletti Non le mangio da ben tre ore Ok sto arrivando Ninna Arrivando Sono vivo Non sono morto Ninna ci sono dei blocchi invisibili che non mi fanno cadere Che bello Haha posso riprovarci 3 2 1 Ok Ok Wow Matti ti vedo Eh mi vedi che sto facendo 20 tentativi di fila Sì Io te lo dico È la prossima volta col cavolo che ti vengo a salvare Eh dai Matti per favore È stato solo uno sbaglio Io io non volevo Non volevo sbagliare Però però Quello portale mi ha detto Vieni con me Vieni con me Quindi io sono andata dentro il portale Giustamente Oh no E adesso dove mi trovo Sono in un labirinto Ninna Come in un labirinto? Non ci posso credere Non si vede niente È qui Te lo dico Mettiti comoda Perché io qui non so quanto tempo ci metterò ad arrivare Ecco Ecco Già sono stata qua per non so quante ore E ora devo pure aspettare tu che riesci ad arrivare qui Come cavolo ho fatto? Sono tornato all'entrata Ninna Come sei tornata all'entrata? Ho fatto tutto il percorso Ma 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 Mi sono ritrovata all'entrata Ma dai no Non ce la farò mai a salvarti Allora Qua è tutto buio Qua è un po' meno buio E qua Oh 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 Dovrebbe essere l'uscita questa? Credo proprio di sì Oh no Un altro labirinto E dai Matti muoviti Dai 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 Devo essere più veloce Ninna sto arrivando Oh tu resisti ok? Ok Io penso che ci siano comunque dei ragni qua Perché vedo delle ragnatele Io ho paura dei ragni lo sai Dei ragni Sono stato colpito Ancora Ninna devo essere sincero Ho un po' paura dei ragni Ma credo di essere arrivato Oh finalmente È finito questo Questo labirinto Prima di schiacciare il bottone Salta sulla pedana Allora Qui abbiamo diverse chest Ninna In cui c'è Arciere Curatore Combattente Mago E poi c'è una specie di gabbia davanti a me Che cosa significa questo? E io che ne so Ma ti devi muoverti Cavolo Io sono quasi aspettando Ma almeno hai un cornetto canutella Io Io No Ho delle Ho della carne però se vuoi Anch'io ce l'ho la carne Vabbè senti Sai che ti dico Io qua mi prendo tutto Che mi frega Tanto sono da solo Ninna Ho una brutta impressione In questo momento sto indossando un'armatura e una spada E davanti a me c'è una gabbia Che secondo te devo combattere? Beh ovvio Mi vuoi salvare oppure no? Ok Allora c'era scritto di saltare prima sulla pedana Oh 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 Cosa? No 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 Io mi rifiuto di premere il bottone Ninna Matti mi vuoi salvare o no? Non ho capito scusa Tu non hai idea della quantità di zombie che c'è Ma tu sei un guerriero Ok ci provo 3 2 1 Ah Raga raga no 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 Le mele le mele le mele le mele le mele Mangio la mela d'oro Mangio la mela d'oro No è impossibile sopravvivere così Ok sto riuscendo a domare gli zombie Praticamente Ninna ho fatto un gruppetto di zombie no? E li colpisco piano piano Ah quindi sei un domatore di zombie Sono un domatore di zombie Niente mi può fermare Ok io sono quasi finiti Ninna Ok quindi sei per venire a salvarmi spero Eh eh Diciamo di sì Non lo so sinceramente Resta solo l'ultimo Ciao bello Mi dispiace Ah quanta carne di zombie Eh aspetta un attimo Qui c'è un tasto Ah ma c'era un tasto che non avevo visto Ok Oh penso di essere arrivato a un piano successivo Cos'è tutta questa scala Dove sei Matti? Aspetta un secondo Ninna Credo di essere Uh sono nella torre E qui si vieni sopra Vieni in cima Tu sei la in cima Non ci credo Ok ok Qua c'è una bellissima stanza piena di libri Che non mi interessa Penso che arrivando da questa scala Riuscirò a salvarti Ninna Ok bene muoviti Ok vado vado Mi devo sbrigare Ninna sto arrivando La prossima volta Non ti vengo a salvare Te lo ricordo Ok non cadere nel buco Matti mi dà il tuo nome E lo so sto arrivando Ma qua è pieno di buchi E io ho paura di cadere Oh finalmente sono arrivato Guarda quanti piani ho fatto Ok e adesso cosa dovrei fare qui È pieno di teste di mostri Ninna Come pieno di teste di mostri? Io non credo sia una bella cosa vero? Matti ti vedo Dove sei? Guarda sopra Guarda sopra Oh Ninna Non posso Come no? Non ho la chiave C'è scritto se da qui vuoi passare La chiave devi trovare Ah ma la chiave di solito sta nel portachiave Ah non ci credo Ninna Devo ritornare giù Ma come devi ritornare giù? Eri arrivato Eh lo so ma non c'è la chiave E qui Ma muoviti Ok ok Dove può essere la chiave? Sono sicuro che era in mezzo a quei libri Che non ho avuto neanche voglia di aprire Ehi libri C'è qualche chiave nascosta qui? No ci sono solo dei libri che mi guardano E che cosa devo fare? E me ne vado nella lava a sto punto Che cavolo devo fare? Oh oh aspetta un attimo Muoio 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 Ok mela 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 Ah Ok Non ci credo Non ci credo Ho preso la chiave Ninna Ok muoviti ora Torna qua Torna qua Ti sto aspettando Voglio un cornetto Voglio un cornetto Ti prego Ma che cornetto? Cioè non ti interessa di essere salvata a te? Sì E poi mangerò un cornetto Vabbè Quindi ora dove la dovrei mettere la chiave? Ehi che ne so Mettila dove ti pare Basta che apri questa cosa Vimma 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 Due minuti Due minuti per fare cosa? Oh cavolo Aspetti di urlare Ragioniamo Abbiamo due minuti E quindi dovremmo Dovremmo ritornare giù Ma non ce la faremo mai E poi in più tu hai chiuso Hai chiuso qua Sì lo so che ho chiuso lì Ma come facciamo a buttarci? È altissimo No non possiamo Marti Ma tu non hai scoperto niente qui dentro? No Dai ci dovrà pure essere qualcosa per scappare Oppure siamo bloccati qui Aspetta un attimo Aspetta un attimo Vieni qua Eccomi Corri Eh sono qui Guarda qua sotto la ragnatela C'è una cesta Hai ragione c'è una cesta Sbrigati aprila Non abbiamo tempo Come facciamo ad aprirla? È sotto la ragnatela Non lo so Oh cavolo Ok Oh aspetta Eccolo 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 C'è una fessura Prova ad aprirla Non ci posso credere Guarda cosa c'è qui Ok prendi la una E indossala Come si indossa? Devi metterle Devi metterle dietro la tua schiena Ma queste sono delle ali Oh no Non c'è più tempo Nina dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Sette Cosa sta succedendo? Sta crollando tutto Nina Non cadere nella lava Non cadere nella lava Io sono su un'albero Guarda la torre Ci posso credere Oh mio dio È crollato tutto Ninna Sta esplodendo tutto Fatti dove sei? Non lo so Ah ok ti vedo Beh diciamo che siamo Atterrati un po' lontani Però va bene comunque Fatti ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Sì L'hai salvata La vuoi smettere di colpirmi? Ma cosa cavolo è successo? È esplosa quella torre bruttissima Malefica Vabbè senti Poi ne ripariamo più avanti Adesso seguimi Che dobbiamo tornare a casa Ok ma dov'è il cornetto? Ok Ninna Sei pronta? Sì vai Aia aia piano Vai vai buttiamoci Basta io me ne vado a letto a casa a dormire A mangiare i miei cornetti Non lo voglio più vedere questo cavolo di portale Non ci posso credere che ce l'abbiamo fatta Non ci posso credere C'è da dire la verità però È stato divertentissimo Divertentissimo? È stato un incubo E poi quella cosa esplosa E noi potevamo rimanere dentro Eh su quello beh hai proprio ragione Però c'è da dire che siamo riusciti a volare Cioè abbiamo volato nella nostra vita Per la prima volta Ninna Wow che bello Matti Ah Matti comunque devo farti vedere una cosa Guarda che cosa ho trovato Cosa?